Ho fatto una riflessione sulle sentinelle in piedi, dicendo che un errore che ho visto fare dopo l'expload del mese scorso è stato di leggere le sentinelle in piedi come un tipico fenomeno cattolico e questo già dimostra quanto abbiamo perso un po' il polso della situazione. Le sentinelle in piedi non sono dei tipici rappresentanti del cattolicesimo, tanto è vero che uno dei loro avversari è Papa Bergoglio. Le sentinelle in piedi fanno riferimento a quell'area estremista di destra che in campo religioso fa capo a Monsignor Lefebvre e in campo politico a Forza Nuova. Se c'è Forza Nuova nelle loro manifestazioni un motivo ci sarà pure, che ha come punto d'incontro tra quelli che sono cristiani e quelli che cristiani non sono minimamente come i ragazzotti di Forza Nuova l'autoritarismo, il totalitarismo perché alla fine lui ha usato la parola omofobia perché è un'etichetta che tutti riconosciamo con facilità, ma la parola omofobia è un lascito di anni nei quali l'omosessualità veniva discusso come un problema di patologia mentale e quindi era stato giusto, erano gli anni 70, fare notare come una violenta odio, una violenta fobia contro gli omosessuali come quello dell'assassino intervistato in carcere che viene addirittura preso da qualche cosa che non sa neanche lui perché lo sta facendo, lui prima non saperlo, è proprio una tipica fobia. Fare notare che questi comportamenti sono fobici, che sono malattie e che sono loro che vanno curati all'epoca avevano senso. Secondo me il concetto di omofobia oggi è un'arma spuntata, tant'è vero che abbiamo avuto l'avvocatizio che parla tranquillamente di eterofobia, è un termine inflazionato, abbiamo la bifobia, la transfobia, abbiamo l'islamofobia, abbiamo ormai chiunque abbia un dissenso ideologico, politico verso un'altra persona diventa fobico, invece questo film riporta la questione nella sua natura vera che è un problema politico. lui ha fatto una bella collezione di interviste di personaggi totalitari, sono persone che hanno un progetto, come è tipico del fascismo, ma anche sul tempo dello stalinismo, per cui la società deve controllare in modo totalitario la vita di ogni individuo. Ma adesso scherziamo, diceva uno degli intervistati, che una persona vuole decidere che cosa è, io credo che tutti noi abbiamo sobalzato sulla sedia perché, pensando a questo qui, è pazzo, mi sono appuntato una fase di forza nuova che diceva che per non essere contro natura è necessario avere una norma per gestire i rapporti sociali, cioè loro si pongono il problema di gestire dall'alto i rapporti sociali, non di creare regole sulla base del quale i cittadini gestiscono loro i rapporti sociali. No, c'è qualcuno dall'alto che stabilisce norme valide per tutti, senza eccezioni, su quali devono essere i rapporti sociali. Io credo che il modello nazista sia chiarissimo in questo tipo di visione della società. E una delle cose che noi auguro di dimenticare, lo studio, la ricerca, la storia, che non mi stancherò mai di dire che è una delle nostre armi più importanti che stiamo trascurando, è ricordarci perché la dichiarazione dei diritti dell'uomo, la Costituzione italiana, parlano della famiglia come realtà naturale, perché loro sono riusciti a distorcere il significato. Quando hanno fatto queste... la Costituzione italiana si stava uscendo dall'esperienza nazista che aveva stabilita che la famiglia esiste soltanto in quanto uno Stato concede il permesso agli individui, cioè una norma, di fare la famiglia. Ed è lo Stato a decidere che un ebreo non può sposare un ariano. Soltanto se lo Stato ti ha permesso tu puoi fare la famiglia. Si vuole mettere una barriera contro questo modo di ragionare dicendo che la famiglia preesiste allo Stato e alle leggi. La famiglia è una società naturale, è qualcosa che degli individui fanno anche nello Stato di natura, prima che esistano leggi, prima che esistano sanzioni giuridiche. Sotto questo tipo di definizione la richiesta del riconoscimento delle unioni delle persone del stesso sesso è perfettamente costituzionale, perché se semplicemente chiedendo alla legge di riconoscere una società naturale preesistenti, cioè non sono persone che prima vogliono la legge e poi se ci sarà penseranno a sposarsi. Abbiamo gente che stanno facendo caso allo Stato perché la loro società naturale esiste già ora e la sanzione giuridica, il riconoscimento sociale che non esiste. Io credo che questo documentario abbia avuto il merito di essere molto ampio e di non essersi focalizzato soltanto sugli aspetti più eclatanti, che sono ovviamente la violenza, che è l'aspetto più spettacolare, se vogliamo, quello che riesce a bucare la capa del silenzio persino dei mezzi di comunicazione di massa, per andare invece su quello che è l'omofobia, ripeto, è un termine che uso per convenzione, io la chiamerei l'ostilità sociale, l'ostilità politica, il pregiudizio ideologico, quella quotidiana silenziosa che stabilisce per esempio che la violenza fatta ai danni di un omosessuale è qualcosa di meno importante di altre cose più importanti. Il caso dei ragazzi con i pantaloni rosa, la sentenza finale è che si è stabilito che non fu omofobia, il modo in cui gli insegnanti hanno cercato di mettere a tacere tutto, di nascondere quello che era stato un reato, perché lì c'era stata l'istigazione e il suicidio, che è un reato per la legge italiana. Allora, esiste soltanto una parola possibile per questo tipo di comportamenti, omertà, omertà mafiosa. Io credo che le sentinelle in piedi e anche gli atti di violenza sono la punta dell'iceberg, che noi vediamo, ma non è la parte pericolosa. Voi sapete che le navi affondano e andando a sbattere non contro la parte che emerge dell'iceberg, ma contro quella che non vedono, pensano di essere a distanza di sicurezza e poi invece da scossa sotto l'acqua c'è un pezzo di iceberg che vanno a sbattere contro. Io penso che tutto sommato le sentinelle in piedi, addirittura, lo dicevo al regista l'altro giorno mentre ne parlavamo, ci stanno facendo un favore, perché ci stanno obbligando a rispondere. Questa sera siamo qui anche grazie a loro, no? Perché noi ci eravamo seduti sugli allori, eravamo convinti che ormai va tutto bene e ripetiamo una frase che ha detto, ha pronunciato uno del portavogio delle sentinelle in piedi, quando diceva rifiutiamo di incasellare le persone in base all'orientamento sessuale. Ma questa è una frase che dicono i queer, è una frase che diciamo anche noi nel movimento gay, rifiuto di farmi incasellare una definizione, io sono al di sopra delle definizioni, sti capperi, le definizioni sono quelle che ti dai tu ma anche quelle che ti danno gli altri. Quanta gente pensava di non essere ebrea nel 1934 ed è finita da Auschwitz lo stesso, perché le nostre identità sono frutto di un'interazione fra quello che noi pensiamo di essere ma anche quello che gli altri ci dicono di essere. Nathalie Barney diceva io sono io perché quando torno a casa il mio cagnolino mi riconosce. noi siamo quello che siamo anche sulla base del riconoscimento che abbiamo dagli altri. Ed è qui che noi, avendo passato una fase quindicennale di narcisismo imperante all'interno del movimento gay, anzi LGBT, abbiamo dimenticato l'importanza dell'aspetto sociale per il benessere dell'individuo. Non è sufficiente punire con una legge chi ammazza gli omosessuali, anche perché è una legge contro l'omicidio, c'è già. Stiamo parlando di reati, ammazzare una persona è già un reato. Quello di cui abbiamo bisogno è fare percepire alla società in cui viviamo il significato soggettivo di comportamenti di tipo omissivo o mertorio che vanno nel senso di stabilire che l'omosessualità non esiste e quindi non deve avere uno spazio sociale. Da questo punto di vista, noi omosessuali siamo stati complici per tutti gli anni in cui abbiamo continuato a dire non voglio definirmi perché definirsi è limitarsi. Quante volte abbiamo sentito questa storia? Ci siamo nascosti e io sono stato molto colpito negativamente nella testimonianza finale in cui la persona che parlava rimproverava gli altri di non averla trattata per quello che era, anziché per quello che lei si è presentata di essere. E diceva, mia vita sarebbe stata diversa. Sì, ma sei stata tua a fare quella scelta, non gli altri. E mi colpisce il fatto che una persona possa dare agli altri la colpa di qualcosa che era sua responsabilità. Dopodiché il gioco di dare la colpa alla vittima è un gioco antico. In fondo il ragazzo che Pantorio Rosa se l'è voluta lui, è stato lui, se l'è cercata, no? Se ti picchiano per strada perché sei esibizionista, vengilo in un certo modo perché la gente, è ovvio che poi gli monta dentro qualcosa e la gente reagisce, ti mena, ti ammazza, eccetera. È un vecchio trucco. Ma questo film a me mi aiuta, mi ha aiutato e sicuramente se potrò riconsegnerò la visione, proprio perché aiuta a focalizzare su una serie di problemi che sono stati nascosti sotto slogan facili, dimenticando il fatto che siamo di fronte a uno scontro politico tra visioni del mondo, tra una visione del mondo di tipo totalitario che trova la sua espressione più vociferosa, più chiassosa nelle sentinelle in piedi e in forza nuova e anche più violenta, ma che trova la sua forza nei comportamenti omissivi del partito democratico, nel comportamento overtoso dei partiti di sinistra. Le leggi contro l'omofobia, la legge Scalfarotto è in discussione nel Parlamento Italiano da venti anni, va bene, quindici, ma in tutto il resto d'Europa l'hanno approvata, nel frattempo. Noi stiamo ancora discutendo di portarla al voto. È chiaro che non mi preoccupano le sentinelle in piedi, mi preoccupa Renzi che ci aveva promesso che entro ottobre avrebbe fatto la legge contro l'omofobia. Siamo a novembre e non si è neanche cominciato. Ma in questo modo è riuscito a prendere un altro anno ed è così che siamo andati avanti. Prima di Scalfarotto c'era la concia, prima della concia c'era un altro e in questo nord, prima di oggi c'era Prodi. E di anno in anno sono riusciti a tirare la situazione in cui siamo e noi siamo ancora lì a ringraziarli perché forse i prossimi anni risponderanno queste cose. Chiudo perché ovviamente penso sia più interessante sentire lui di me. La mia conclusione è che vedendo le sentinelle in piedi, se qualcuno mi riesce a chiedere cosa ne penso è che le ammiro. Perché al di là del fatto che sono delle persone totalitarie, sono dei fascisti, sono delle persone che per le loro idee sono disposti a far morire gli altri, perché questi sono i fanatici. Sono persone che credono a talmente tanto un'idea che per quell'idea sono disposti a sacrificare la vita degli altri e queste sono le sentinelle in piedi. Però almeno loro si mobilitano per qualche cosa, scendono in piazza e esprimono il loro punto di vista. Dopodiché non è il caso di farci prendere dal pane, quella cosa che sostengo questo medio su Pride, perché le sentinelle in piedi hanno già perso e lo sanno. Loro si presentano una minoranza addirittura all'interno del mondo cattolico. Bergoglio è di fronte al problema che a furia di fare barriera contro i divorziati hanno svuotato le chiese. In un paese in cui un matrimonio su tre finisce in un divorzio, cominciano a dire che un terzo della popolazione in chiesa non ci può più venire. Poi gli omosessuali sono un altro 5%, loro non li vogliamo neppure loro. I conviventi, i pubblici concubini neanche... e siamo arrivati che il 70% della popolazione non può entrare in chiesa. Infatti le chiese sono vuote, i seminari sono vuoti, l'età media dei preti in Italia è 65-70 anni. Media vuol dire che un quarantenne fa media con uno di 90 anni. Tra dieci anni il buon Dio avrà risolto il problema del clero in Italia, chiamandolo a sé. E' un po' che è ovviamente pericoloso, si è posto il problema di come riempire i seminari e le chiese. Questi che vedete a fare i sentinelli in piedi mentre leggono Topolino in piazza, sono quelli che vogliono impedirgli di allargare le mani. Maggi che dovrà allargare perché la società è già cambiata, il mondo è cambiato, l'etica sessuale è cambiata. Le sentinelli in piedi non stanno lottando contro il matrimonio gay, stanno preparando il referendum per l'abrogazione del matrimonio gay. Che arriverà? Arriverà perché è cambiato il concetto di matrimonio. Forse la colla credo lo dicesse. Il matrimonio storicamente si situa come un istituto, il matrimonio serve a gestire un patrimonio. storicamente è stato questo. Oggi il matrimonio non è più quello. Quando io sono andato in chiesa al matrimonio di mio cugino, che sono andato in chiesa, al prete, tutto quanto, e il prete dice che il matrimonio è il luogo degli affetti. Ma se il matrimonio è il luogo degli affetti, due persone omosessuali che hanno un affetto reciproco, perché non possono entrare nei matrimoni? Se mi dici che non possono, neghi che il matrimonio è il suo luogo degli affetti e quindi leghi quello che la gente crede in questa società. Se mi dici che possono, non è più quel matrimonio che diceva il prete, è un'altra cosa. La società è già in questo senso. Nei giorni in cui gli sentinelli in piedi facevano le cose che lui ha ripreso, per la prima volta un soldato ha detto che in Italia il 51% degli italiani è favorevole al matrimonio gay. Avevamo già il 70% favorevole ai miei civili, la prima volta che arriviamo al 51%. Questa battaglia è già vinta, il nostro problema non sono i nostri concittadini, il nostro problema è la classe politica che non ci rappresenta, che non abbiamo scelto, non abbiamo eletto, nessuno ha mandato Renzi in Parlamento, è il sindaco di Firenze, non è mai neanche stato eletto parlamentare, però sono quelli che decidono.